Cambiamo argomento, maxi operazione antidroga della polizia di Messina che ha sgominato un traffico di cocaina dalla Calabria alla Sicilia. 15 gli arresti, tutti i dettagli da Mariella Musso. Nella notte appena trascorsa più di 100 operatori della polizia di Stato sono stati impegnati in una vastazione anticrimine che ha portato all'esecuzione di 15 misure cautelari e messe a carico di altrettante persone, di cui 11 in carcere e 4 agli arresti domiciliari. L'operazione rappresenta l'epilogo delle più recenti indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia Peloritana e condotte dalla squadra mobile e dalla Cisco, sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo di Messina, su una compagine delinquenziale dedita al traffico di sostanze stupefacenti. L'azione investigativa, che ha trovato la sua conclusione nella mattinata odierna, trae genesi dagli approfondimenti svolti sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che ha riferito su consolidati rapporti per l'acquisto di cocaina proveniente dalla Calabria. Dalle indagini, ancora in fasi preliminari, sarebbe emerso un'articolata associazione criminale, operante principalmente nei rioni messinesi di Santa Lucia Sopracontesse e Camaro, dedita alla gestione di un imponente traffico di droghe di varie tipologie, cocaina, marijuana, scac, destinate ad essere immesse sul mercato cittadino. Di tale sodalizio, secondo le evidenze investigative, sono capi promotori tra i cittadini messinesi di età compresa tra i 40 e i 51 anni. Per custodire la droga acquistata, il gruppo si appoggiava ad un insospettabile, un uomo messinese di 42 anni, incensurato, oggi raggiunto dal provvedimento cautelare degli arresti domiciliari.